Per di più, si manifesta con un'abbondanza tale che appare incompatibile con la sprezza dell'ambiente. È un posto così inerte che persino il suolo è, tecnicamente parlando, un fossile. Eppure è brulica di innumerevoli vite, ed ancora oggi ci si può sedere su una spiaggia a prendere il sole con una colonia di leoni marini. Grazie a tutti.